Partita veramente difficile, come mi aspettavo, perché il campo di Arezzo è uno dei campi più complessi di questo girone. Loro avevano grande voglia di rivalza dopo un periodo non facile, si è visto. Noi non siamo partiti molto bene, ma loro hanno fatto un inizio veramente strepitoso e avevano trovato coraggio e fiducia e tutto poteva mettersi male, ma i ragazzi sono stati bravi a stare compatti, a rispondere colpo sul colpo, a rintuzzare il divario che era diventato anche in doppia cifra e arrivare all'intervallo sotto di un possesso con tutto quello che era successo, problemi di falli e divario, era ottimo. Secondo i due quarti siamo cresciuti tanto difensivamente, che è la nostra caratteristica e abbiamo scavato un break importante e siamo veramente soddisfatti di essere riusciti a fare anche questa vittoria, due punti fondamentali per il nostro percorso.